Musica Padoan, un aiuto agli alluvionati, ministro all'economia all'assemblea provinciale di Conf Cooperative ha annunciato di aver firmato la sospensione dei tributi versati dagli alluvionati eletto il nuovo presidente dell'associazione Fabrizio Malvicini Bolzoni passa agli americani, la storica azienda di Casoni di Podenzano cambia proprietà i soci storici hanno sottoscritto un accordo definitivo con la statunitense Eister Yale per oltre 53 milioni Piacenza profumo di Lega Pro, i bianco-rossi piegano anche la Varesina e aumentano il vantaggio sull'Ecco ora a meno 15 fermato sul pari da un bel Fiorenzuola Volley Modena condanna Piacenza, LPR enormeccanica sconfitti nel derby emiliano le ragazze di Gaspari sfideranno nuovamente la Lugio mercoledì in Coppa